Ciao a tutti da Nonno Chef, vi volevo dare un'idea da provare una cosa speciale sopra la panzanella. Questa è la panzanella sulla quale ci andiamo a grattugiare del pecorino romano. Come si fa la panzanella? Semplice, andate a vedere in questo video qui. Cliccate qua sopra. E' qualcosa di veramente speciale. Il gusto del pecorino esalterà i sapori della panzanella. Anzanella. Provate anche voi, poi fatevi sapere.